Mi ha appassionato il racconto della storia fatta dagli eredi riguardo all'acquisizione di questo luogo. È un'opera che è stata portata avanti seguendo il sogno del fondatore e per questo che subito ho preso consapevolezza anche della profondità del sentimento. Da qui sono partito per la realizzazione, per la futura realizzazione di un progetto scultoreo che verrà realizzato in bronzo da qui a un anno. Verrà messo in un luogo panoramico e cercherò di renderlo in dialogo, di creare un dialogo tra il luogo e la memoria di questa famiglia.